Capitolo 19 di Parole che lasciano il segno. Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Ma che paura abbiamo a fare delle domande? Di qualsiasi tipo, chiedere è il primo passaggio per capire, per crescere. La curiosità è l'elemento che ha distinto tantissimi geni nel passato. Io ascoltavo giusto qualche giorno fa la storia di Leonardo in un audiolibro e uno degli elementi che lo ha caratterizzato era la curiosità e la velocità con cui cambiava gli argomenti, una volta approfonditi. Proprio perché chiedeva, perché era un continuo e incessante chiedere ha creato questo personaggio. Certamente c'era un'intelligenza sopra la media nel caso di Leonardo ma nel caso di ognuno di noi il chiedere ci permette di elevarci. Fare domande è il primo passo per migliorarsi, per crescere. Io dico sempre di non smettere mai di essere curiosi. Ci credo talmente tanto da essermelo tatuato perché ritengo che non ci si deve mai dimenticare che l'approfondire, l'entrare nei dettagli, il capire il perché delle cose sia per me fantastico. avere la possibilità di vedere a 360 gradi grazie alle domande, grazie a quello che chiediamo alle altre persone, grazie al confronto con persone che hanno competenze più elevate di noi sia di estremo valore. E non solo ci faccia poi successivamente apparire magari meglio ma eleva il nostro essere. Noi dobbiamo puntare sempre a elevare noi stessi. Lo dico in ogni podcast, in ogni puntata. Eleviamo noi stessi, miglioriamo noi stessi, cresciamo noi stessi. E fare domande è uno dei passaggi fondamentali. Non smettete mai di fare domande.